21 febbraio 2013, siamo qui in via Correale, praticamente nei pressi di Piazza Laura alle spalle e ci sono ancora i lavori in corso, si è scoperto qual è stata la causa? La lavoraggine, c'è un vuoto qua sotto, dubbi e siamo fino al centro di Sorrento, questa è la cosa. Cositano News, seguo sempre per voi presente, impegnato da Sorrentino e consiglio da Massitano.